Bilancio partecipativo 2022, i cittadini hanno potuto esprimere le proprie preferenze in merito alle aree tematiche fino al 29 luglio e così è stato pubblicato l'esito delle votazioni sul sito del Comune Nisseno. Quella che ha ottenuto più voti è stata la cultura con 52 preferenze, secondo posto per l'area tematica cura e bellezza del centro storico con 4 voti e un voto ciascuno per sport, sviluppo economico e tutela e benessere degli animali. La fase successiva adesso sarà la pubblicazione di ulteriori avvisi e indicazioni da parte del Comune per le modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali che potranno essere avanzate da ogni cittadino in forma singola o associata.